Sì, però poi... ...la ciclone, perché noi... ...e che fanno la parte del gruppo di storia... ...ma la parte che si è in realtà... ...c'è un'altra... ...e che c'è proprio... ...tanto per pure... ...e che è una cosa di spingere... ...ma te... 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 ...sono... ... angero Grazie a tutti. Grazie a tutti.